ciao a tutti ragazzi eccomi su state of the gate 2 non c'entra niente comunque oggi dobbiamo andare a fuga ma stavolta non parlerò in italiano parlerò il dialetto catalese perché mi l'ha detto il padacca quindi parliamo nella mia solita lingua che parla tutti i giorni che minchia sta che minchia ci viene a fraps mamma mia oma che è oggi che cazzo si prende a fraps perché deve far così comunque se mi ricordo di ecco che spacchio sta figliando fraps io non lo so ragazzi io per questo non ho fatto video sti giorni ma perché sto fraps proprio fa non lo so non ve lo so dire che succede con fraps e va a tratti sto cazzo di gioco o fraps è una delle due allora andiamo dove andiamo a cazzo come si pigliava ma che cazzo ok io volo non vedete niente sta per morire va bene che cazzo sta succedendo o qui cazzo sta per morire non è nel caso mi chiede niente è in caso non è non è nel caso guarda chi cazzo sta per morbido non è non è nel caso sa per forza dai chi cazzo sta per nulla non è nel caso chi cazzo sta per corso non è il caso dice che cazzo sta per shrugge maledetto dai zomi di minchia ma quante cazzo ce n'è? ah non c'è stango scusa scusa è stango figliolo abbiamo sta minchia dai porti tu si come si apre la porta ok così non si apre proprio la porta maledetto APB che ho premuto F bastardo eh con lei apre le porte guardi ciao zomi maledetto maledetto c'è un cazzo qua dentro ecco fra che cazzo te sto pigliando fra cazzo prenda fraps cazzo prenda fraps comunque dov'era la macchina qua è la macchina ragazzi se fa sempre così fraps non so se come fare la serie fate sempre i video di sto gioco perchè non si può non si può fare così da serie mi sa che mi fermerò alla secondo a questo video basta guarda eh se mi fa girare le palle davvero si che già si sta riuscendo abbastanza e ma quale fiato cammina va un gioco mi sta fanno darmi nervi sto gioco vuoi il gioco le frappe? se non lo so io ho fatto caare sotto ma fa C***o maledetta bastarda eh come si apre la macchina si muovete invece di parlare così coglioni andiamo a fare muovete aspettiamo aspettiamo la radio di dove c'è qualcuno ma ti muovi sali, brava lag non capisco perché sti lag ehm 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 no dai dai mi sta lagando vedete oh ho tanti amici cipulac yeah vai con il salto ragazzi stiamo andando a te prendiamo la macchina prendiamo la macchina stai lì dai dai credo che puoi dire che siamo fuori stai lì tutto che sappiamo è che un paio di persone crazy che cercano di uscire dai ma che cazzo stai prendendo a fraffs si è iniziato a 12-13 giorni a prima era solo storie sulle notizie 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 non sono ammazzato ragazzi noi sappiamo che arriviamo dove dobbiamo arrivare e finisce qui la puntata non è che sia che deve lavorare magari sia radiazione o la magia o la di 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 questa puntata si chiamerà stai 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 mega lag Faffanculo dai No 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 Mega lag si si perfetto il titolo Stra lag Non capisco perchè Ecco cazzo di cosa Di cantare Fa Faffa Faffa Ciming e fraps Maia Venuto Deve loggare per forza Cioè ma dove devo andare? Ah là ok Ok E' ritrovato la mappa Grazie Non potrebbe andare così Sì vero il gioco tranquillo No tutto trap Deve loggare per forza Eeeh Mi apri te? No è un bel aspetto Vabbè guarda lasciatelo fuori Io devo entrare Mi vediamo il mio figlio Sì sì vai vai Morirai Eeeh posso entrare o no? Dai che devo salutare i miei youtube I miei youtube I miei iscritti E' già I miei youtube Mi ha fatto credere sto gioco Troppo largo Ora vediamo se sembra qualcosa per il prossimo episodio Forse Ok ragazzi siamo arrivati Ora questa qua vorrebbe forse fare qualche missione No vabbè aspettiamo che cazzo vuole questa Eeeh Eeeh Ecco sembra la gare pensa sto gioco Pure qua in casa sto facendo un cazzo I spend most of my time here Using the radio to coordinate Vabbè ragazzi dai con questo ci chiudo Perché sto cazzo di fraps è un pezzo di merda Mi raccomando iscrivetevi commentate mettete mi piace Alla prossima ciao